salve a tutti amici e benvenuti ad una nuova puntata di misteri da cacciare sono qua con il tpe francesco rianna e oggi andremo in un ex manicomio per bambini abbandonato uno dei luoghi più infestati d'italia a quanto pare qual è la storia di questo manicomio veramente da sentiamola questo edificio risale al 1870 ma nel 1940 che venne ceduto alla croce rossa italiana l'edificio venne trasformato in un ospedale psichiatrico per bambini ma venne abbandonato nel 1970 le leggende parlano di suore particolarmente cattive con i bambini e si parla addirittura di torture fisiche e mentali il mistero più interessante riguarda la misteriosa scomparsa di tutti i piccoli pazienti nel giorno in cui il manicomio venne abbandonato c'è chi dice che ci fu un incendio e chi invece parla di un'epidemia virale ma non possiamo saperlo con certezza coloro che entrano in questo edificio abbandonato vengono assaliti da una strana sensazione e sono indiversi ad aver avuto esperienze paranormali si dice anche che all'interno dell'edificio vaghi lo spirito di un bambino di nome filippo erni pare che filippo fosse affetto da una grave forma di schizofrenia e che abbia ucciso alcuni dei suoi compagni venne per questo rinchiuso all'ultimo piano dell'edificio ma lui si gettò dalla finestra uccidendosi ovviamente non abbiamo la certezza che tale evento sia successo realmente suo guscello realtà e leggende sono spesso mischiate fra loro e come se tutto questo non rendesse già abbastanza inquietante questo luogo alcune persone sono entrate nel manicomio abbandonato per effettuare riti satanici allora questo posto era la cappelletta dove i bimbi dove i bimbi praticamente con le suori venivano a studiare a pregare infatti questa era la cappelletta poi lì c'era un'altra istanza dove giocavano e tutto infatti se vedete ci sono anche i banchi resti di banchi che studiare resti di banchi si e se io ho avuto il grandissimo riscontro che era era un po più spostato verso l'alto praticamente appena arrivati qua abbiamo spostato e nel metto abbiamo spostato e il capo si è illuminato rosso e poi adesso si è palesato proprio lì con l'entità perché il capo 2 brillava tantissimo questo sarà un luogo assolutamente importante esatto da controllare un luogo assoluto ragazzi questo posto fa venire veramente i brividi credo di non essere mai stato in un posto così carico di energia pensate che qua c'erano tantissimi bambini un tempo è come quella volta dal mio salatore senti fa si è sentito qualcuno sta respirando qua si sente si sente si sente c'è un bambino in rischio ora da dove arriva intanto hai sentito la cosa di un bambino no 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 ma come no no io ho parlato con Fabio penso sia ciao bambini noi siamo venuti qua per giocare con voi provate ad avvicinarvi questo rumore qua dicevo provate ad avvicinarvi a questo strumento io circa due anni fa sono venuto qua e avete giocato insieme a me mi ricordo ogni minimo dettaglio di quell'indagine mi farà mi piacere nuovamente comunicare con voi e vorrei che giocasti con noi non sono solo stavolta guardate a venire qua adesso non lo fa più io lo sento da là il respiro lo sento che viene da là non è tutto niente c'è qualche bambino? è lontano ma lo sento no adesso questo sembra più un uccello notturno no no non questo sto parlando del respiro prima era proprio una sì sì mamma mia qualcuno vuole comunicare qualcosa con questo strumento? c'è qualche bambino che purtroppo veniva rinchiuso in questo posto? no ragazzi no 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 C'è qualcuno che respira? Ti ha brillato il K2? Sì Potresti farlo per favore? Ui Quello piccione Piccione A parte il piccione però c'è anche il respiro Sì Cioè papri tanta roba Io me lo sento all'orecchio perché c'ho lo zoom Questa sera vado fuori di testa Petrificata guarda C'è qualcuno? Qualche bambino Vabbè c'è un piccione che dorme Si può avvicinare per favore A questo strumento Che ho in mano L'ultima volta l'hai fatto il numerario di altre volte Volevo giocare tantissimo con noi Sentivamo appunto che qualcuno Passava accanto a noi come se corresse tra di noi O i prividi Giocavate correndo? La cosa più inquietante è questo respiro che a volte va a volte viene a volte è più forte C'è qualche paziente che fa fatica a respirare? Se qualcuno fa fatica a respirare potete farcelo capire accendendo le lucine di questo strumento che abbiamo in mano O che ha appoggiato lì Per favore Anche io l'ho sentito Hai sentito? Cosa? E quello che ho sentito io Però prima è la diversa Tipo Tipo così ho sentito Ne sono sicura Qua secondo me c'è qualcuno che veramente fa fatica a respirare Cioè Non so Dovevate avere in questo momento le cuffie E se tipo avvicinato così Oddio Cioè vicino a loro E' inquietante Se mi ricorda quella volta Al sanatorio Di un sanatorio abbandonato Dove nel reparto Malattie infettive Senti tutto Malattie infettive Era il reparto di ulcerato per colosi Quindi il problema di polmoni Ho capito Se sentite a avvicinarsi uno In qualcosa E poi hanno preso E ti finito Lo sentivi da lontano Sempre meno E poi più vicino Sempre più forte Ma poi adesso sono più tranquilla Sapendo che era una cosa parola normale Sono tranquilla Ma beata se No vabbè Pensassi era qualcos'altro Certo lo so Per caso Qualche persona Non tanto Gradita in questo luogo Vieneva a fare qualche rito satanico Perché Basta vedere un po' La struttura E no Di cose un po' particolari Segni particolari Ovviamente Che ci fanno capire Appunto che Sono stati colpiuti Dei liti Messe nere E ovviamente E ovviamente A voi presenza Di bambini Non mi fa piacere Questa cosa E sono sicuro Che con voi C'è qualche energia negativa Qualche presenza ostile Mamma mia ragazzi Cosa c'è? Mi sento qualcosa dietro Porca miseria Dove? Ho la peludota Sentivo Sai quando Quando c'è Tutta la parte elettrizzata? Sì Sì Tutte le braccia E tutto dietro Volete parlare con Francesco? Non ti sapete I nostri nomi Sicuramente